L'emergenza dovuta alla pandemia di coronavirus continua a condizionare fortemente il regolare svolgimento del campionato di Serie D, in particolar modo nel girone F e quello dove sono inserite le formazioni abruzzesi. In settimana il Dipartimento Interregionale ha deciso per la sospensione del torneo fino al prossimo 29 novembre, quando dovrebbero, e il condizionale resta doverosamente d'obbligo, riprendere le ostilità regolarmente con i match slittati ed in calendario in questo fine settimana. Deciso inoltre, sempre da parte del Consiglio e del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale dilettanti, di recuperare le sfide saltate proprio nel corso di queste tre settimane di stop, in modo da riallineare il calendario. Ma il programma stabilito è già saltato, visto l'ulteriore rinvio del confronto tra Real Giulianova e Cinzia Albalonga, previsto per domani al Rubens Fadini. Questa volta, motivo del rinvio, è un caso di positività riscontrato all'interno del gruppo squadra giallorosso. A questo punto il match potrebbe disputarsi non prima del 22 novembre, al pari di Vastese Agnonese e Notaresco Aprilia, considerando anche il fatto che Real Giulianova e Cinzia Albalonga, a loro volta, debbono recuperare un altro match, già calendarizzato per il prossimo mercoledì 18 novembre. Difficile ipotizzare a questo punto date per la Serie D. La soluzione più plausibile e ospicabile da parte di società e squadre è quella di un protocollo certo allo studio della Lega Nazionale Direttanti, che possa derimere ogni problematica permettendo di scendere in campo con giuste certezze. Altrimenti proseguire o chiudere la stagione sarà veramente ed estremamente complicato.